Libertà! 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 Contro le restrizioni del Governo. Nella serata di domenica 1 novembre, Piazza Matteotti a Rovigo ha ospitato la manifestazione regionale delle categorie maggiormente colpite dall'ultimo provvedimento anti-Covid. Per lo più composti, i manifestanti con la mascherina sul volto e numerosi striscioni contro il Governo hanno chiesto, in sintesi, di poter lavorare. Non vogliamo delle cose, non vogliamo lavorare, è il grido unanime. Niente frasi negazioniste, ma un concetto chiaro. Il virus c'è, ma noi rispettiamo le regole. È sbagliato punire chi rispetta le regole. Non ci si contagia in bar, in palestra o al cinema. I problemi sono altri. E tra quelli indicati, primo in assoluto, i trasporti. Durante la manifestazione hanno preso la parola i rappresentanti di tutte le categorie a dare il via alla protesta pacifica agli organizzatori che hanno ricordato a tutti i partecipanti le regole ferre e da rispettare. Abbiamo lavorato tutta la settimana per organizzare questa manifestazione. Ma abbiamo bisogno anche di voi. Tenete la mascherina ben piantata sul naso e mantenete le distanze. Dimostriamo che siamo in grado di manifestare in modo intelligente. Non create cortei e non fate casino. Siamo tutti arrabbiati, ma non dobbiamo fare casino. Noi rispettiamo le regole qui e le rispettiamo anche in azienda. Ecco perché non ci devono chiudere. Noi rappresentiamo il mondo del lavoro, il mondo di chi vuole lavorare. Facciamo proposte perché poi le porteremo ai nostri amministratori e al nostro governatore se ci vorrà ricevere. Ci hanno fatto aprire e spendere soldi per riaprire. Non vogliamo fermarci. Non fermateci ora. Sarebbe deleterio. La prima categoria rappresentata è stata quella dei bar. Abbiamo riaperto con l'asporto. Poi abbiamo cambiato e investito con l'estivo. Poi con gli ingressi contingentati. Tutto a nostre spese. Noi abbiamo il diritto di lavorare. Abbiamo bisogno di lavorare. Fateci aprire. Vogliamo lavoro? Non è lemosina. Venite a controllare le nostre attività. Siamo pronti. Ma poi interviene una signora. Cosa apriamo a fare se dicono alla gente di stare a casa? È rappresentata anche la categoria della cultura. La cultura è la cultura.